Ben trovati da Nico Schiodetto, un aggiornamento con il TGD3B, quest'oggi ritorniamo in Islanda perché sono ancora numerose le scosse di terremoto, stiamo intanto vedendo le immagini che ci arrivano da questa cittadina isolata a sud sud ovest dell'Islanda, 60 km a sud di Reykjavik, dove tra l'altro da questa faglia stanno uscendo delle esalazioni di anidide solforosa che potrebbero presagire proprio l'arrivo del magma, quindi di un'eruzione vulcanica. Andiamo a vedere, di fatti, l'Islanda rapidamente si è formata 20 milioni di anni fa, proprio lungo la dorsale medioatlantica, in un hot spot, ovvero in un punto caldo. In queste zone, di fatti, è alto la fuoriuscita di magma dal mantello verso la costa terrestre. Di fatti, proprio sull'Islanda passa la dorsale medioatlantica, dove vede la placca americana allontanarsi verso ovest e quella euroasiatica allontanarsi verso est, di circa 2 cm mediamente all'anno. E quindi tutta la zona, soprattutto la parte sud occidentale, è costannata di vulcani attivi e frequenti sono i terremoti. Andiamo però a vedere cosa succederà sull'Italia nei prossimi giorni e possiamo vedere, di fatti, una giornata che vede ancora variabilità sul vecchio continente per la permanenza dell'Atlantico, delle perturbazioni atlantiche. Una nuova perturbazione, questa notte e domani mattina, interesserà il vessante tirrenico con piogge e domani sera anche il basso Adriatico, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata con rovesci. Venti tutti forti domani di Maestrale, con mare giatte sulle coste esposte, raffiche anche fino a settata, 90 km orari sul basso Tirreno. Finalmente poi nel corso di sabato e domenica una pausa, rimonterà un po' di alta pressione della Spagna, quindi un po' di sole sia sabato che domenica, ancora però sabato venti forti di Grecale al sud. Tutti i dettagli precisi, gli approfondimenti, scaricando l'app di Trevi Meteo oppure sul nostro sito web.